La 14esima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Proseguiamo con l'eccellenza dell'anno, innovazione e leadership in pianti fotovoltaici utility scale. And the awards goes to... Un bel applauso a Tristan per accompagnare con precisione ed efficacia clienti e partner di mercato in tutte le fasi del progetto, dalla cura della diagnostica, all'attività di monitoraggio, fino alle soluzioni preparatorie in termini di sorveglianza degli impianti, per i risultati concreti in termini di riduzione dei consumi e delle emissioni, per un operato che garantisce ai propri clienti di liberare risorse significative e riconquistare in breve tempo competitività sul mercato. Complimenti per tutto questo a Tristan. Diamo il nostro benvenuto a Massimo Lauria, CEO della Tristan Cesin Desan, azienda siciliana leader nel settore delle costruzioni e delle manutenzioni di impianti fotovoltaici. Ci racconterebbe la storia della vostra azienda e cosa vi ha resi un punto di riferimento per il fotovoltaico in Italia? Grazie dell'invito. Raccontare la storia della nostra azienda ci vorrebbe tantissimo tempo in quanto è una storia che parte proprio dal basso, una di quelle storie che ci vorrebbero giorni per poterla raccontare, però considerato il breve tempo che abbiamo a disposizione mi limito a fare una sintesi. Innanzitutto noi siamo tre soci, da qui nasce il nome dell'azienda Tristan, dove abbiamo tutti e tre delle competenze diverse e non veniamo assolutamente dal mondo fotovoltaico. La nostra storia nasce da un disagio. Noi eravamo tre ex colleghi di lavoro che lavoravamo per un istituto di vigilanza, dove io ricoprivo il ruolo di direttore, mentre gli altri due soci, uno aveva una mansione tecnica e l'altra una mansione di logistica. Questo disagio era dovuto che in quell'azienda dove noi lavoravamo abbiamo avuto dei grossi problemi. Non avevamo preso lo stipendio per quasi otto mesi. Da qui la voglia di riscattarci, perché nel frattempo tra di noi era nata una forte intesa e da lì siamo partiti sul settore della vigilanza inizialmente. Quindi inizialmente la nostra azienda faceva solo servizi di vigilanza privata. Iniziando la vigilanza sui cambi fotovoltaici abbiamo potuto sperimentare e innamorarci di tutto quello che circonda il discorso della manutenzione e della costruzione degli impianti. E da lì siamo rimasti affascinati, per cui abbiamo iniziato a studiare, ci siamo intercalati talmente tanto che ci siamo innamorati di questo lavoro. Siamo partiti con una SRLS, capitale sociale 1000 euro. I primi tre dipendenti siamo stati proprio noi tre soci. Oggi siamo una bellissima realtà con 200 dipendenti e con un volume d'affari di 16 milioni. Quindi questo dimostra che quando c'è l'amore, la passione, l'intesa, soprattutto la voglia di riscattarsi, uno ci può riuscire. Quindi mi fermo qui perché potrei continuare fino a domani di tutte le vicende che hanno attraversato il nostro percorso e la nostra bellissima storia. Qualcuno si era proposto, chi ha ascoltato la nostra storia, si era proposto addirittura per scrivere un libro su questa storia. Perché appunto, come dicevo, da un disagio forte, importante, nasce una delle realtà che oggi è leader nel settore. Lavoriamo con gruppi importanti, fondi di investimento, delle multi utility e quindi ne andiamo molto orgogliosi. La Tressan si distingue dai competitor per la grandissima attenzione all'economia circolare. Infatti avete trasformato il concetto di produci, usa e getta in ripara, rigenera e riusa. In questo modo riuscite a ridurre notevolmente i processi di smaltimento degli inverter. Come avviene questo processo e che benefici apporta? Allora, il processo avviene nel seguente modo. Tutti gli impianti datati, ormai diciamo con un'età che va oltre 10 anni, vengono rinnovati. Le proprietà hanno la necessità di rinnovare l'impianto in modo tale da raggiungere un'efficienza produttiva che possa riuscire a far quadrare le performance economiche dell'impianto. Per cui questo rinnovamento comporta la sostituzione di tutte le componenti dell'impianto. Noi anziché mandare allo smaltimento questi inverter, li prendiamo tramite una cessione da parte del cliente, quindi attuiamo una politica di mercato dove a volte li compriamo, ma spesso ci vengono ceduti. Noi li ripariamo, li rigeneriamo e tutta la componentistica la immettiamo sul mercato attraverso una piattaforma, una nostra piattaforma e-commerce, tresanne.store, dove spesso anche il costruttore delle macchine ci fa cercare il componente, il pezzo, che magari lui non produce più perché quell'inverter è fuori produzione, ma che comunque però è presente sul mercato. Quindi esistono impianti che ancora mondano quelle macchine. Quindi è un circolo virtuoso. Questo che cosa comporta? Di non mandare l'impianto ai processi di smaltimento, nocivi per l'ambiente, e comunque di aumentare la durabilità della macchina, perché noi riusciamo a portare la macchina a vita zero e addirittura, le dirò di più, aumentiamo anche le prestazioni, cioè la vita della macchina stessa diventa molto più lunga di quella che sarebbe stata con la macchina acquistata ai tempi, diciamo, con il nuovo. Dottor Lauria, secondo lei cosa possono fare le autorità nazionali e locali per agevolare la transizione green? Ma innanzitutto io direi che per quello che sta succedendo sarebbe necessario che riuscissero a snellire tutte le pratiche autorizzative e a fare dei trattati molto feruginosi in questo settore, perché spesso assistiamo all'emanazione di alcuni decreti che poi in corso d'opera vengono cambiati e sostituiti continuamente, con magari delle articolazioni che sono nocive a chi magari ha iniziato degli investimenti. Quindi questo è una delle cose importanti. Naturalmente per fare questo la politica, il governo, gli addetti ai lavori devono essere persone competenti, perché se non si ha la cultura del green, delle energie rinnovabili, dell'ecosostenibilità, c'è poco da fare. Questo è una cosa che non riuscirà a prendere piede, perché l'abbiamo visto, sono cambiati tantissimi governi, ma se non c'è la gente competente che riesce a capire e ad avere la cultura del green non si riesce a... rimaniamo sempre bloccati e ricordiamo che noi abbiamo degli impegni con l'agenda 2030 ONU dove dobbiamo raggiungere degli obiettivi. Questa sera avete ricevuto il prestigioso riconoscimento Le Fonti che premia la vostra posizione d'eccellenza nel settore degli impianti fotovoltaici. Cosa rappresenta per voi questo premio e quali sono i vostri obiettivi futuri? Questo premio ci rende molto orgogliosi, molto orgogliosi perché comunque concretizza tutti tutti gli sforzi che noi facciamo con amore e passione. Tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare voi della redazione e il comitato tecnico-scientifico che ci ha scelti già per il secondo anno consecutivo. Quindi questo significa che stiamo facendo bene, continuiamo a fare bene e vogliamo diventare i leader nel settore a livello europeo, quindi continuiamo il nostro viaggio raddoppiando sempre i volumi da fare e triplicando i margini.